guarda che ne provate avete un lavoro da fare proteggete i punti d'accesso del firewall e fate in modo che i dati su questo laptop restino sicuri i nemici hanno le posizioni dei punti di accesso al firewall e si stanno avvicinando al lavoro hanno buscato il firewall e hanno le coordinate del laptop nemici in movimento si, eh, però e se mi viene da qua? Vabbè che sai Vabbè che sai Fai esplodirci 4 Siii, però stas corriendo arriba O poner una a mi Si la escucha cuando detone Cuando detone Ya sabes que había Si te dio Un lavoro di prima classe squadra Una mina Una mina Un lavoro di prima